No, abbiamo... poi abbiamo una coesione con i stanziali, abbiamo una raggina a dentro, quindi mettiamo un po' di spettacolo, quello che facciamo a stanziali. Ah, come la stanza è l'attaccia? Se la vuoi, non lo conosciremo a poi. Questa tuta è stata un po'... diciamo... Non abbiamo fatto nulla, questa che loro si vengono a cercare, ma inoltre abbiamo sentito una testa. A Natale abbiamo organizzato. Ma questo è un parico. Sì, c'è un parico. Diciamo che è diventata una cosa del lavoro, questo è un parico al lavoro, insomma di nuovo riagacciato in questa... ... 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